Buongiorno a tutti, il drink che prepariamo oggi qui a Castel Romano è un mojito, non un classico mojito, ma bensì un mojito in doppia coppa. Andiamo subito a raffreddare la nostra coppa con del ghiaccio e il mojito lo prepareremo in un mixing glass, quindi lime, zucchero di canna e della menta. Come il classico mojito, questo lo andremo a pestare sempre davanti al nostro cliente. Ok, quando abbiamo visto che il lime fa uscire il succo, andremo a inserire il ghiaccio ed il rum tipicamente cubano, il kubai. Un once in quarto di rum a collo libero, col nostro strumento che si chiama Jig, e della soda. Ok, in questo momento andiamo a scegliere energeticamente, per far sì che i prodotti si ammalgano bene. e poi togliamo il nostro ghiaccio e la coppa, la coppa si sarà fregata e andremo a filtrare il nostro mojito. Il nostro mojito è pronto.